3 Aspetta Ciao a tutti ragazzi! Ciao, oggi mi ritrovo qua con mia sorella e abbiamo deciso di fare uno bello scherzetto sia Benedetta a Daniel per il pesce d'aprile ora le chiameremo e vediamo come va a finire Benedetta è successo un casino guarda sto tanto incazzato io guarda che faccio? mettete a sete un attimo eh, ci fai, senti come sei sola? no, sto perché Riccardo vedeva la casa di PlayStation ma dove? la casa di Riccardo ah, sta in casa di Riccardo è successo un casino mi ha chiamato adesso ho capito no, mamma Dani quella lì mi ha detto che sono volendo avviata al canale ma che stai a dire? mi ha detto che sto stufata e Stefano l'ha pure sgridata e quindi sono volendo avvia senti per chi è per culo a me? ci vuole? oh Benedetta non sto scherzando tu stai a per culo la persona è sbagliata ok? non sto a scherzare Benedetta si e questo sarà il video per il primo aprile fammi così no mi ha messo paura mi ha messo paura ho sentito qualcosa accanto a punto di ricerche Benedetta, non sto a scherzare si certo va bene riprovo a giustarti perché sarebbe funzionato Benedetta non sto a scherzare a partì scherzi che cosa facciamo? eh? che cosa facciamo? niente che tu vai dove stavi fino adesso e io continuo a guardare Riccardo che gioca a me stesso ma hai capito che sei una via dal canale o no? ah si pronto? oh che fai? Benedetta Davide per favore allora guarda a casa domani è il primo aprile tu io lo so quello che vuoi fare tu e a me stai tanti che non funzionano capito? magari stai magari stai pure vicinezza no? stai qui e vediamo stai guarda Davide mi dispiace perché sei una persona sbagliata almeno te non sto a scherzare te lo giuro te lo giuro guarda Benedetta guarda mi ha fatto mi ha fatto un po' che ti hai sentito quella che stava a fare un cazzo su a più cani ma chi sei? ma chi sei? ma chi è? non mi ha fatto un po' ma chi è? non mi ha fatto un po' non mi ha fatto un po' saluta pure maria elisa che vuole essere salutata maria elisa saluta che vuole essere salutata adesso proviamo con daniel ciao niente mi ha sgamato subito benedetta purtroppo mi conosce troppo bene proviamo adesso con mamma daniel vediamo come va a finire comunque mi sono dimenticato scusa devo salutare pure io ciao maria elisa grazie continuo a guardarci o è successo un casino è successo un casino metti un attimo si duda che devo parlare benedetto sorenda via dal canale io mi sono rotta le scatole a parti scherzi guarda io che appare schiaff io non ne posso più a parti scherzi spero che non c'è uno scherzo per domani perché domani è primo aprile veramente o no ti sento male ha detto che sei stufata se non andava via dal canale guarda se è uno scherzo dimmelo subito no te lo giuro non è uno scherzo ma come famo andiamo in due poi fai video ma tipo tutte quelle persone che ci guardavano grazie a lei adesso non ci guardo più nessuno poi la vedo boh la vedo strana esce sempre beve anche tanto estate la vedo un po pazza io non lo so non lo so boh rispondi un po' tu che puoi fai poi mi ha pure risposto male mi ha detto brutto frocio faccio quello che voglio io tu non te devi intromette ma come te permetti mi stava a di a te e quella andrame sta a di quell'altra rifinita a te ovviamente non lo so vedete voi io so che si ma è uno scherzo brutta ritardata è uno scherzo ha ritaccato raga come c'è cascata ma vada a nessuno ok ragazzi il video è finito lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e commentate ringrazio moltissimo a chi lo fa sempre condividete i nostri video sui vostri social se ci volete bene e vi fanno ridere suggeriteci sotto nei commenti a chi fare uno bello scherzo telefonico noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ragazzi andiamo non sono molto bravo a fare oh dammi compri la nutella dai che è finita a casa non so se non pesa è l'ora di tornare voglio ritornare